Il Paradiso, trame al 28 aprile, Marco rivela amare Gemma, Alfredo si avvicina a Clara. Prosegue su Rai un litro appuntamento con la serie tv italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa da lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16 e 5. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 aprile, Marco confesserà di amare ancora Gemma. Inoltre tra Marcello e Ludovica succederà qualcosa di inaspettato, il tutto mentre Conti indagherà su Tancredi scoprendo che è coinvolto nell'incendio del mobilificio. Nella puntata del Paradiso delle Signore di lunedì 24 aprile, Matilde penserà che Tancredi possa essere implicato nell'incendio che ha distrutto l'azienda di famiglia. La Frigerio chiederà il supporto di Vittorio e riuscirà a trovare il maggiordomo della vecchia abitazione. Unica persona che potrà sciogliere ogni dubbio. Intanto Roberto cercherà di capire che tipo di rapporto ci sia tra Marco e Gemma. Inoltre Alfredo non vorrà tornare con Irene e Clara avvertirà la ragazza sulle intenzioni del perico. Marcello e Ludovica invece saranno in ansia perché Adelaide non ha fatto avere sue notizie. Nell'episodio di martedì 25 aprile, Conti preparerà un evento benefico per la festa della liberazione. Nel frattempo Clara parteciperà ad una gara ciclistica, ma avrà un'amara sorpresa. In tutto questo Elvira considererà a salvo solo come un amico, mentre Landi intuirà la complicità crescente tra Marco e Zanatta. Tra le altre cose, Flora chiederà a Guarnieri di scegliere tra lei e la contessa. Vittorio invece vedrà Tancredi confrontarsi con il suo vecchio maggiordomo e sarà certo che l'uomo è responsabile dell'incendio. Secondo le anticipazioni tv di mercoledì 26 aprile, Alfredo sosterrà Clara nel suo processo di recupero dopo l'incidente in bici. Irene si renderà conto che perico non vorrà più vederla. Intanto Marcello sarà disperato al punto da chiedere a Guarnieri di aiutarlo nelle ritrovare Adelaide e confiderà che la brancia possa accompagnarlo a Ginevra. Salvo apprenderà poi la volontà di Agnese di rimanere a Londra. Marco invece riconoscerà a Frigerio di sentirsi ancora legato alla sua ex fidanzata. Nella puntata di giovedì 27 aprile, Armando mediterà se trasferirsi a Londra con Agnese. Oppure se restare a Milano. Nel frattempo Marco ha compreso di essere ancora innamorato di Gemma. Ma non vorrà dirle nulla. In tutto questo Conti continuerà ad indagare su Tancredi. Mentre Ludovica accetterà di andare a Ginevra insieme a Barbieri tra i due accadrà qualcosa di inatteso. Tra le altre cose, aumenterà l'affinità tra perico e Clara. In base agli spoiler di venerdì 28 aprile, Marcello alla fine sceglierà di partire da solo e darà un biglietto a Ludovica. Torre Bruna però capirà cosa è successo tra la sua fidanzata ed il Barbieri. Intanto Gloria invierà il regalo per le nozze di Gemma e Colombo ripenserà ai bei tempi passati con lei. Inoltre Conti avrà la certezza di coinvolgimento di Tancredi nell'incendio. Infine Agnese tornerà a Milano. Mentre Marco rivelerà a Gemma di amarla ancora. Inoltre Conti avrà la certezza di Ginevra.